Perché oggi qui? Per manifestare contro le pale eoliche, giustamente non è una cosa concepibile, del resto poi... Questo è un territorio votato per l'agricoltura, non si può fare una cosa forzata così, a far decidere agli agricoltori. Perché non vogliamo queste pale eoliche? Deturbano il panorama, guardate un po' intorno, che vedete? Lei perché è contrario? Io sono contrario, sono contrario ai paledoni, perché sono dannoso alla salute. Li devono mettere, ma li devono mettere sui monti che non c'è nessuno. E noi in queste zone qui, basta così. Signora, lei è contraria? Contrario. Sono dannosi. Buongiorno, perché dite no a questo impianto eolico? Ma non è proprio no, è solamente che il comune pare che vuole scegliere un luogo diverso, un luogo... Poi il resto non lo so, vedete anche... Per i danni che porta, diciamo no, ai danni dell'ambiente e tutto il resto. Io sono contrario, la regione si ricorda di questo comune, solo per le cose non buone. Soltanto per questo si ricorda. Sentite un po' abbandonati dalla regione Campania? Non abbandonati, abbandonatissimi, la regione Campania, dal mio punto di vista. Quindi cosa chiedete? Si devono ricordare anche di altre cose, non soltanto di questo.